bentornati bentornati sul sul canale oggi buona domenica buona domenica a tutti innanzitutto buona domenica a tutti e l'inter si imbarca oggi alla volta del del giappone per la tournée in cui affronterà l'alnaz e il pari san germain curiosamente due club che avranno tra le proprie fila due ex grandi ex possiamo dire nera azzurri visto che quello che hanno che hanno rappresentato per l'inter due ex capitani scrinia nel pari san germain e brozovic nell'alnaz peraltro non solo brozovic nell'alnaz ma c'era anche alex tedes un altro ex nera i convocati i convocati facciamo prima a dire chi non c'è allora intanto c'è c'è quadrato convocato grazie al al fatto che l'inter sia riuscita a ottenere il il visto in tempi brevissimi mancano però tre pedine per motivi strettamente legati al mercato sono in uscita infatti sia radu sia agume che salsedo salsedo è vicinissimo ormai al ritorno l'ennesimo mi viene da dire ritorno al genoa rado dovrebbe accasarsi al bornemouth ma c'è questo giallo sul contratto perché da più fonti risulta essere in scadenza nel 2024 quindi un prestito sarebbe impossibile altri parlano di scadenza 2025 è un giallo io personalmente metto la mia ignoranza io ricordavo 2024 ma alcuni dicono 2025 vedremo non ho non ho modo a momento di verificare e ci stiamo anche qui stiamo lavorando ma fa sorridere insomma questa questa vi ricordo l'ultimo vado a memoria l'ultimo non sono particolarmente legato alle scadenze di contratto ormai l'avete capito non sono proprio argomenti che mi scaldano però ricordavo l'ultimo rinnovo fino al 2024 tant'è che si parlava di volontà di cedere radu perché aveva solo un altro anno di contratto e sono tre mancate le convocazioni chiaramente però che vanno in quest'ottica poi per il resto ci sono tutti sono tutti dentro ci sono anche Gosens per il quale il Wolfsburg continua a fare un incessante lavoro di pressing ma deve accontentare l'Inter che o cede Gosens alle proprie condizioni o se lo tiene c'è Sensi c'è Lazaro e ci sono Sebastiano Esposito Fabian Alexander Stankovic chiaramente c'è anche Philip Stankovic il portiere e c'è il giovane Giacomo Stabile che ha giocato contro la pergolettese nel secondo tempo come braccetto di sinistra credo sia un destro perché la prima volta che lo vedevo giocare e da come ho visto le movenze i controlli gli appoggi credo di non adesso ma si è disimpegnato veramente bene quindi un giovane da tenere da tenere d'occhio convocato anche il giovane Alessandro Calligaris e chiaramente anche di Gennaro quindi tutti tutti in lista restano le lacune di cui abbiamo parlato la lacuna del portiere anche ora oggi dopo il vertice di ieri tra l'Inter e il Bayern una situazione congelata non c'è un passo avanti in questa direzione Inzaghi continua ad allenarsi a preparare la stagione senza portieri il discorso sul portiere perché alcuni forse non riescono a non è tanto affrontare la tournée in Giappone o le amichevoli senza il portiere cioè anche sti cazzi intanto non è il portiere ma sono i portieri perché Stankovic andrà a giocare e non verrà non verrà tenuto come vice dell'eventuale primo portiere quindi ne mancano due i portieri poi se Stankovic resta come vice e credo che qualche ragionamento si stia facendo perché è partito due volte su due da titolare attualmente in teoria l'unico portiere a disposizione Inzaghi la prima squadra e di Gennaro che invece è sempre subentrata e non che voglia dire chissà cosa subentranti e titolare in queste prime uscite però un minimo di segnale forse c'è e proprio in considerazione del fatto che non tutto sta andando come preventivato quindi è inutile che facciamo sempre quelli che va tutto bene perché dobbiamo dire che va tutto bene non bisogna avere paura nel raccontare i fatti un conto è sguazzarci un conto è stare lì a rimestare per cercare chissà quali quali traguardi un conto è raccontare è chiaro che qualcosa a livello di portieri si è inceppato come mercato ci sta non è che qualcuno adesso deve prendere i dirigenti dell'Inter e giustiziarli in pubblica piazza si sta semplicemente facendo cronaca quindi se in queste estremismi di queste prese di posizioni totali per ogni minimo argomento ti può parlare anche criticare anche ammettere che qualcosa non vada senza dover per forza fare le guerre santi ed è evidente che qualcosa non stia tornando perché mancano due portieri ripeto due portieri non uno non uno e mezzo due portieri e e lì c'è c'è il discorso di sommer con la clausola di segel con l'inter che sembrerebbe voler pagare quattro non lo so non lo so se siano queste due milioni perché anche qui è ogni ogni giocatore va pagare il giusto prezzo è anche corretto stare a trattare ve l'ho detto ragazzi il problema non è affrontare l'amichevoli senza il problema è affrontare avvio di preparazione le prime settimane senza i portieri non è proprio una cosa banale soprattutto se questi portieri sono nuovi un conto e se uno è infortunato dice vabbè lo aspetta devi inserire altrimenti non si farebbe la preparazione se non servirebbe se non servisse o se non servirà se non servisse non si farebbe la preparazione si fa proprio in questo senso per programmare e lavorare il più tempo si perde peggio è poi magari arriva e si inserisce all'improvviso il problema non è sti cazzi della torna in giappone è altro non a caso si parla tanto di le vecchie dichiarazioni sono da galla no di marotta da remo in zaghi la rosa completa il più breve tempo possibile la rosa dell'inter a diverse lacune più o meno gravi quella del c del sesto centrocampista che poi sesto è improprio perché dobbiamo ragionare i a due a due quindi i due registi ci sono c'ha la norway aslani tre mezzali su quattro ci sono barella mkhitaryan e frattesi manca un'altra mezzala quindi non è il sesto centrocampista in realtà è il quarto centrocampista che magari può diventare il secondo o il terzo no anche quando l'inter ha preso mkhitaryan arrivava come sesto centrocampista ma in realtà poi viene dato titolare quindi attenzione anche a questo frasario e comunque può essere un ingresso da poter fare con maggior calma attaccante secondo me no l'attaccante è un'urgenza il difensore visto è considerato che darmian ormai ai galloni titolare può essere si può arrivare con più calma a quello portiere attaccante secondo me sono due urgenze attaccante torno a dirlo tu oggi hai un nuovo arrivato che arriva anche da un altro campionato un una diciamo una certezza l'autaro l'ho arrivato chiaramente alla duram uno sul mercato correa è uno che ti manca quindi a oggi ce ne hai ai correa ma correa l'ha messo sul mercato quindi attenzione anche a soppesare basiamoci solo sui numeri o su sugli slogan soppesiamo anche dentro il contenuto e per il difensore si sono sbucati due nomi che a me francamente non fanno impazzire sono quelli di toloi e palomino per motivi diversi però ripeto andare a completare la rosa come di questi peraltro palomino mancino quindi sarebbe bisseg l'alternativa d'armiana e devo dire che mi sta piacendo il tedesco in quella posizione di campo palomino sarebbe il vice bastoni ci può stare ci può stare tranquillamente anche toloi là è tutto un discorso anche di di sborso economico quindi vai a vedere quanto nel caso potresti andare a spendere e ti fai due calcoli lì secondo me ci sta il ragionamento e tirarla anche per le lunghe tirarla anche sul prezzo qui su portieri su attaccante la stai tirando sul prezzo nel frattempo però stai perdendo tempo di inserimento non non è il problema non è la giocare l'amichevoli senza x o y il problema è che perdi tempo nell'inserimento tutto e l'altra cosa che volevo dirvi sì no vabbè direi che magari inviamo nel caso a un altro un altro video c'era uno spunto dalla gazzetta dello sport su su lucaco un fondo di uno dei vic di uno dei vice direttori della gazzetta dello sport che non mi ha particolarmente entusiasmato ma lo rinviamo lo cancelliamo vediamo oggi è domenica c'è anche il gran premio quindi rilassiamoci un po dai un saluto